Approvata a Roma la nuova rete ospedaliera della Sicilia. Si tratta di un risultato straordinario e sofferto, ma, ha spiegato l'assessore regionale alla salute, Baldo Gucciardi, la Sicilia adesso può guardare con grande fiducia al futuro della propria sanità. La certezza è che potremo sbloccare nell'immediato le emissioni in servizio delle professionalità a partire dalle aree di emergenza e urgenza. Questo traguardo complessivamente promuove l'indirizzo tracciato in questi anni, raggiungendo un risultato che viene da lontano e che dimostra che la Sicilia può mettersi alla pari delle regioni più avanzate dal punto di vista sanitario. L'assessorato, aggiunge Gucciardi, vigilerà sull'applicazione tempestiva della rete approvata facendosi carico contestualmente di allineare eventuali anomalie, alcune delle quali sono state segnalate in questi giorni. Ascolteremo il territorio, le organizzazioni sindacali, sindaci, le forze parlamentari, i comitati civici e quanti vorranno dare un contributo per il consolidamento di questo straordinario risultato. Il piano divide la Sicilia in quattro aree, occidentale, centrale, orientale e area peloritana. Nella Sicilia occidentale gli ospedali deputati alle grandi emergenze per la presenza di quasi tutte le discipline sono Arnas Civico e il Policlinico Giacone. Nella Sicilia centrale l'ospedale di riferimento è l'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, l'ospedale di Gele e dipartimento di primo livello, il San Giovanni di Dio di Agrigento, cresce in reparti e diventa riferimento locale. Nella Sicilia orientale tre dipartimenti di emergenza e urgenza di secondo livello, tutti a Catania, l'ospedale Cannizzaro, il Garibaldi e il Policlinico. Nel Ragusano tutte le strutture sono classificate come dipartimenti di primo livello. Nell'area peloritana l'ospedale di riferimento e il Policlinico di Messina, mentre Taurbina subisce un consistente taglio.